Sono Marisa, ho 34 anni e ho sconfitto l'infoma di Burkitt al quarto stadio. Mi chiamo Gianluca Attanasio, ho classe 69, 49 anni, sono un fondista paralimpico ma anche un giocatore di pallanuoto paralimpica. Mi chiamo Luisa Morniroli, ho 60 anni e anni fa ho avuto un tumore a seno. Humanitas per me è stato veramente una meraviglia perché ho trovato nel mio percorso di malattia, medici veramente fantastici. Tanti giovani che sono bravissimi, che comunque si cimentano nella ricerca e anche nella pratica chirurgica. Sono riusciti a non farmi venire lo sconforte, è anche vero che è successo tutto velocemente, ma loro non mi hanno mai abbandonata, mai. La ricerca scientifica cambia assolutamente la vita di tutti perché ci dà la possibilità di poter sognare un futuro diverso, un futuro migliore. E affrontare meglio queste malattie. A me ha cambiato la vita perché mi ha dato la possibilità di essere qui, di raccontarvi la mia storia, di avere un secondo figlio e di continuare a fare ciò che mi piace, essere un capo scout e fare l'infermiera. Donare il 5 per 1000 Humanitas è importante perché dà la possibilità di riscattarti e di avere una seconda possibilità nella vita. Perché più fondi ci saranno, più la ricerca andrà avanti e ci saranno soluzioni sempre migliori per i pazienti. Io mi invito a dare il 5 per 1000 Humanitas per continuare la ricerca perché Humanitas non è solamente ricerca sulle ossa, ma è Cancer Center, ricerca spinale, ricerca sulle nuove sfide che il futuro ci sta ponendo dinnanzi.